...eve non c'è nulla per evitare da nessuno scuolato. Vi è il vero modo di che avete deciso il cammino e io adesso seguo il tuo numero di visioni. ...eve non parlano degli anti-borghesi, poi secondo me mi hanno deciso di essere sempre a buttarsi. Solo di questa c'è anche l'unità di potenza in lui, però in realtà alla fine è un'impotente, non so perché, non so se sinceramente ho un po' qualche perplessità in condurre la sua impotenza solamente a quello su. ...eve non c'è la serba, la moglie, la madre generatrice di potere, di amore, di affetto, di tutto. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sarò da voi domani. ... 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 Sono qui. Sono qui, sono qui, sono qui. Sono qui, sono qui, sono qui. Sono due le ragioni per cui io mi sento costretto a parlarti. Prima di tutto, si tratta del mio senso morale. Devo partire domani. Sì. 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 Sì.